Dopo l'emergenza Covid-19 abbiamo tutti imparato quale sia l'impatto delle malattie pneumologiche in ambito sanitario. Queste causano da solo il 17% dei decessi nel mondo e in generale le difficoltà respiratorie influiscono pesantemente sulla qualità della vita di chi ne soffre. È su queste basi che si è svolto a Milano il 25esimo congresso nazionale della pneumologia, occasione in cui è stato evidenziato come sia sempre più necessario, anche in virtù dell'aumento dell'età media della popolazione, intervenire sulle patologie croniche come asma e BPCO, ma anche le novità sul trattamento del tumore del polmone, osas, ipertensione polmonare, bronchiettasie, interstiziopatie, fibrosi polmonare e le malattie rare polmonari, senza trascurare il dibattito sempre più attuale sulla medicina di genere. Più che di medicina di genere è più forse corretto parlare di approccio di genere alla medicina e alla salute, quindi in pratica si tratta anche di identificare quelle che sono le caratteristiche della malattia, ma anche della salute e della prevenzione delle malattie che possono avere degli aspetti diversi legati al genere o legati al sesso e quindi ci aiutano poi a indirizzare questi aspetti nella pratica clinica. Quindi è un argomento appunto importante e di grande interesse. La task force medicina di genere nel contesto della SIP è uno strumento che nasce all'interno della società come un modo trasversale di coinvolgere professionisti pneumologi che si occupano di aspetti diversi e che insieme affrontano il problema, declinandolo poi nelle singole patologie, nelle singole situazioni. È un organismo molto trasversale nel quale abbiamo incluso soprattutto giovani, anche perché c'è stata molta risposta da parte dei colleghi più giovani ad occuparsi di questo aspetto. Che cosa abbiamo fatto? Allora il primo punto è stato quello di cercare di capire, piuttosto che di indirizzarci su quelle che erano le singole patologie, di capire quelli che sono proprio i meccanismi basali fisiologici, fisiopatologici, epidemiologici, che possono aiutarci a spiegare le differenze tra l'uomo e la donna, le differenze legate al genere, così come le differenze legate al sesso. Quindi il genere intendendosi come accezione che molto risente degli aspetti ambientali e sociali, il sesso invece è quello che è strettamente legato agli aspetti biologici. L'altro punto che sviluppiamo in termini operativi, anche questo è un aspetto molto importante di questa task force, che è il collegamento con la società italiana della pneumologia ospedaliera. Quindi l'idea proprio di coinvolgere tutto il mondo pneumologico italiano, quindi puoi portare a casa e anche di diffondere nell'ambito poi della società l'argomento, è un argomento finalizzato alla raccolta di dati, di informazioni che abbiano una base scientifica. Questo credo che sia il nostro ruolo, il ruolo delle società, in un argomento che, proprio perché è così dibattuto, così diffuso, così di moda, è importante cercare di raccogliere e dare messaggi veramente che abbiano valore scientifico. Aspetti importanti della discussione è anche la sempre più precoce esposizione al tabacco da parte dei ragazzi. In occasione di questo congresso abbiamo organizzato una sessione specificamente dedicata al consumo di tabacco e parliamo in particolare di quanto questo è distribuito nella classe di età dei soggetti adolescenti. Quindi stiamo parlando di ragazzini tra i 13 e i 17 anni. Secondo l'ultimo studio dell'Istituto Superiore di Sanità che è stato condotto quest'anno, possiamo sintetizzare che quasi due ragazzi su dieci consumano un qualche tipo di prodotto del tabacco, sigarette tradizionali, sigarette elettroniche oppure prodotti a tabacco riscaldato. Quello che si osserva è che negli ultimi anni effettivamente la prevalenza di consumo delle sigarette tradizionali è lievemente ridotta, ma questa riduzione è compensata dal progressivo aumento del consumo di sigarette elettroniche e prodotti di tabacco di riscaldato. Tipicamente sono più le ragazze dei ragazzi a consumare più questi prodotti e un altro aspetto fondamentale che si osserva in particolare negli ultimi anni è quello del policonsumo. Se un tempo esisteva solo la sigaretta tradizionale, adesso caratteristicamente questi ragazzi passano da un prodotto all'altro in maniera indifferente, soprattutto incentivati da messaggi che arrivano dal mercato, dall'industria del tabacco, che promuove questi prodotti come sicuri, innocui e sicuramente anche più attraenti da un punto di vista estetico, perché inevitabilmente comporta l'utilizzo di prodotti tecnologici, di riscaldatori che in qualche modo hanno una loro attrattiva anche da un punto di vista estetico. Oltre al policonsumo, un altro aspetto fondamentale nel tabacco è che spesso quello che si osserva è che i ragazzi iniziano a utilizzare questi prodotti alternativi, sigarette elettroniche, tabacco riscaldato, ma finiscono di lì a poco a passare alla sigaretta tradizionale. Detto questo percorso sta inevitabilmente l'aspetto critico che sostiene il consumo di questi prodotti, e cioè la dipendenza da nicotina. La nicotina è contenuta in ognuno di questi prodotti, causa dipendenza e favorisce quindi l'inizio e la persistenza del consumo. Gli effetti sulla salute possono essere anche molto importanti, si pensa sempre all'apparato respiratorio, essendo quello più esposto in prima linea agli effetti di questi prodotti, ma non dimentichiamo che il cervello dei ragazzi continua a svilupparsi fino anche all'età di 24-25 anni. Ci sono quindi studi che dimostrano che ci sono effetti anche sulla sviluppo e maturazione del sistema nervoso centrale come conseguenza dell'utilizzo di questi prodotti. servono azioni preventive importanti, in questi anni probabilmente c'è un calo dell'attenzione a iniziative di questo genere e le società scientifiche quindi cercano di promuovere in maniera importante azioni che vadano nella direzione di sostenere una corretta informazione, quindi soprattutto diffondere l'informazione che questi prodotti non sono sicuri e tranquilli, ma possono essere veramente devastanti sugli aspetti della salute. Quindi azioni preventive mirate a ridurre il consumo di tabacco che si sta osservando in questi anni. Durante i lavori è inoltre emersa l'importanza di avere dei percorsi diagnostico-terapeutici sempre più precoci per il trattamento della BPCO, ovvero la broncopneumopatia cronico-ostruttiva. La BPCO è una condizione che colpisce oltre 3 milioni e mezzo di individui in Italia, quindi è una condizione largamente diffusa e paradossalmente anche sottodiagnosticata, caratterizzata dall'evenienza di eventi acuti, che si chiamano riacutizzazioni, che nei casi più gravi richiedono l'ospedalizzazione e quelli che richiedono spedalizzazione sono gravati da un'alta morbidità, ma soprattutto da mortalità. Per cui è una condizione che va attenzionata e va attenzionata sin dalla prevenzione del rischio a una accurata diagnosi e a un corretto e appropriato trattamento basato sulla gravità della ostruzione bronchiale, così come dalla presentazione dei sintomi. In questa gestione della BPCO è chiave creare una rete di collaborazione che preveda lo specialista, lo specialista territoriale e il medico di medicina generale, che è uno snodo fondamentale in questa stretta collaborazione, chiamiamola di triangolazione, dove viene intercettato probabilmente per la prima volta il paziente proprio sul territorio e dalla medicina di base e dove la diagnosi deve essere fatta sì su criteri clinici e quindi la presentazione dei sintomi caratteristici, la tosse, la tosse produttiva, la fanno, ma anche dalla spirometria che consente di evidenziare l'ostruzione. Quindi creare un network tra specialisti e medicina di base è chiave in modo da creare dei percorsi possibilmente preferenziali per dare risposta nei giusti tempi ai pazienti affetti da BPCO. Grazie a tutti.